E oggi cari amici torniamo nella serie di Poppy Playtime Oggi andremo a scoprire tutti quanti i riferimenti di Poppy Playtime capitolo 3 su Project Playtime Andremo a scoprire tutte quante le novità ma come sempre state qui sotto tantissimi like E se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale con la campanella attiva E fatemi sapere qui sotto nei commenti quale gioco non vedete l'ora di giocare fra Poppy Playtime capitolo 3 e Project Playtime Che sono veramente tanto curioso ma partiamo subito Si comincia direi di partire innanzitutto dal trailer ufficiale di Poppy Playtime capitolo 3 Perché già lì possiamo notare dei riferimenti a Project Playtime Ok ed eccoci qua con il trailer ufficiale teaser trailer Guardate qua infatti che cosa c'è Nel frattempo c'è l'Edpierre che sta parlando sta descrivendo che cos'è il Playcare Ma guardate qui che cosa abbiamo Abbiamo il peluche di Aghiwaghi a terra Ma non solo guardate lì c'è Momby Long Legs anche lì buttata Che tra l'altro sia Aghi che Momby saranno due nemici di Project Playtime Poi c'è la testa di Bron Un pezzo di giocattolo Anche questo qua è un altro riferimento E infine guardate lì in fondo chi c'è C'è Gas Mask Che ancora non sappiamo se sarà un nemico Un giocattolo, un personaggio Oppure un oggetto da indossare Ma su quello poi lo scopriremo più avanti Forse quando uscirà Project Playtime sapremo anche ulteriori novità di Gas Mask Ma eccolo lì davanti Nel frattempo mentre c'è sta parte qua Sentite qua delle urla di sottofondo Queste sono delle urla di paura Sono bambini imparicati che hanno paura E nel frattempo possiamo notare Gas Mask E anche questa data 2023 Sì perché Poppy Playtime capitolo 3 Uscirà nel 2023 Ancora non sappiamo la data precisa Però ci sarà Non vi preoccupate Torniamo qui indietro Come vi dicevo infatti Qui ci sono già dei primi riferimenti Guardate qui infatti Aghiwaghi Vi ricordate il trailer cinematico di Project Playtime? C'era una Aghiwaghi a terra E anche qua noi notiamo un altro E poi sempre andando avanti E anche qui avanti c'è la testa di Bron E ricordatevi una cosa Su Project Playtime Noi dobbiamo trovare dei pezzi di giocattoli Dobbiamo creare un giocattolo gigante E anche questo qua è un altro riferimento Andiamo sempre avanti Adesso direi di passare proprio direttamente a Poppy Playtime capitolo 2 Perché quello è proprio l'anello di congiunzione fra il terzo capitolo E Project Playtime Ok ed eccoci qua Siamo tornati nel secondo capitolo Sto giocando nella versione mobile Perché comunque Project Playtime Uscirà anche per telefono Non sappiamo quando Però rimanete sintonizzati Perché appena saprò delle news Ve le porterò Tiriamo qui la leva E accingiamoci Verso la fine di Moby Long Legs Andiamo di qua Veloci 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 Di corsa Intanto lungo questo corridoio Guardate qua ci sono pure delle porte chiuse Dei cancelli Che non ci fanno vedere che cosa c'è lì di lato Che però non capisco Perché su PC questi cancelli sono aperti E su telefono me li hanno chiuse Ma dai Vabbè non importa Proseguiamo Metti qua la manina Bloom Intanto lì Cara mammina cara Ma non ce la farei mai a mangiarmi Non ce la farei mai Mi spiace Intanto qua su Apriti cancello Veloce 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 Di corsa Tiriamo qui la bella leva Di questo macchinario E niente Cara mammina Mi spiace Però ci sei andata te lì Con la mano lì sopra Non te l'ho mica detto io Di metterlo lì È inutile che adesso gridi Cos'hai fatto Mi farà diventare Parte di lui E mi spiace Mommi Non puoi farmi questo E invece te lo faccio e come Te lo faccio e come Tu mi avresti mangiato E che roba E allora Intanto adesso guardate qua Sta per uscire fuori un personaggio Molto molto importante Il famoso prototipo 1006 Guardatelo lì davanti Ma che roba E anche qua sul prototipo Noi abbiamo dei riferimenti Che si trovano su Project Playtime E il prototipo sarà Qualche altro personaggio Del terzo capitolo Vabbè Sicuramente non lo incontreremo Proprio come personaggio stesso Però Magari avremo dei riferimenti in più Avremo delle informazioni in più Dato che alla fine Il prototipo È il nemico principale Di tutto quanto Alla fine Sia Aghiwaghi Sia Mommi Longlegs E tutti gli altri giocattoli Ancora Sono tipo degli schiavi Del prototipo Sono tipo sottomessi Anzi Loro stessi Hanno pure paura di lui Infatti Mommi Longlegs Dopo che noi l'abbiamo sconfitta Aveva paura Di diventare parte Di questo prototipo Che si va ad assorbire Tutte quanti le varie parti Dei giocattoli E adesso Di salire di sopra Veloce 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 Di corsa Di corsa Dove raggiungere immediatamente La Game Station La Game Station È un'altra zona Molto particolare Che congiunge Poppy Playtime Capitolo 2 Con Poppy Playtime Capitolo 3 E Project Playtime Apri qui la porticina Perfetto Andiamo di qua Recuperiamo immediatamente Il codice di Poppy Cara Poppy però Potresti darmelo subito Mi fai fare tutti sti giri E che roba Adesso Vedi di aprirmi sta porta Va Che non ho tutto sto tempo Da perdere Per stare dietro a te Aprimi sta porta Ma che roba Nella versione per telefono Però male avevo le hack Mi distruggevo gli oggetti Le porte Scendevo Raggiungevo subito il treno Qui invece niente Devo stare ad aspettare Vattene via Poppy Veloce 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 Ok Adesso proseguiamo Vi faccio vedere una cosa Molto particolare Una cosa segreta Che si trova soltanto qua Nel capitolo 2 Apriamo subito questa porta Come ben sappiamo Andando lungo questo Lato del treno Raggiungiamo il Playcare Ma se noi invece Andiamo dietro Di là Sapete che cosa c'è? C'è un'altra parte segreta Con le mod Con le hack Noi avevamo trovato Una sorta di stazione segreta Che si trovava proprio Dall'altro lato E chissà se quella lì La famosa train station Che abbiamo visto Dal trailer cinematico Di Project Playtime Ma che roba Ok E questo qua è il treno Su Project Playtime Infatti noi dobbiamo creare Un giocattolo gigante Dopodiché Dobbiamo scapparcene via Col trenino E il trenino è questo qua È sempre lui Non cambia mai Magari ce ne sono Di altri modelli Però La forma è questa È sempre sto trenino qua Che dobbiamo prendere E quindi Adesso direi di fare una cosa Direi di aprire Innanzitutto qua La porticina E dopodiché Proseguiamo con il video Perché voglio farvi vedere Pure altri riferimenti Ufficiali del prototipo 1006 Su Project Playtime Innanzitutto Foxy Boo Però tramite anche le skin alternative Noi abbiamo pure Killy Willy Kissy Missy Daddy Long Legs E altri nemici ancora Che presto andremo a scoprire Ma intanto guardatelo qua Il nostro caro papino Dalle gambe lunghe Che a quanto pare Sarà una skin Sbloccabile Su Project Playtime Non vedo l'ora Di sbloccarla Non vedo l'ora Anche di provarla Ma andiamo sempre avanti Perché guardate Quest'altra skin Ebbene sì Lei tecnicamente Sarebbe Mommy Long Legs In versione robotica Ma c'è anche Un altro personaggio Robotico nel mondo Di Poppy Playtime Il famoso prototipo 1006 Quindi questa È la skin Del prototipo E possiamo scoprire Quindi anche Delle informazioni in più Per il momento Noi infatti abbiamo visto La sua mano Che è una mano robotica Ma non abbiamo visto Altro di lui Ebbene sì Adesso possiamo scoprire Altre novità ufficiali A quanto pare Questo prototipo Avrà degli occhioni Belli rossi Guardate qua Infatti Ci sono degli occhi rossi Ma presto Vi faccio vedere Pure altri dettagli Perché la skin Del prototipo Si trova anche Su Boxy Boo E su Huggy Wuggy E quindi appunto Direi di vederla Anche negli altri personaggi Eccolo qua Boxy Boo Possiamo notare infatti Che anche lui Con la skin del prototipo Ha degli occhi Molto rossi Quindi questo Conferma ulteriormente Che questo personaggio Avrà degli occhi rossi Tra l'altro Sappiamo pure Un'altra cosa Di questo prototipo Lui possiede Dei raggi laser Che ha utilizzato Per mettere fuori uso Delle telecamere E chissate Forse anche con questa skin Potremmo sbloccare Questi raggi laser Oppure potrebbe generare Questi raggi laser Direttamente con i suoi occhi Guardate qua infatti Tutti questi occhi Illuminati Ma anche i denti Belli appuntiti Questo fa male Questo qua Se ci morde Ci fa veramente Tanto male Guardate qua Che denti ha Ma non sono denti Sono dei chiodi quelli Mamma mia Che dolore Mi viene dolore Soltanto guardare Però notate una cosa Boxibu Con la skin del prototipo Non ha più Le braccia a molla Diventano tipo Una sorta di tubi Che sta roba Sembrano dei tubi Questi qua Ma dai Andiamo sempre avanti Perché anche Aghiwaghi È la sua skin del prototipo Guardate qua Anche qua Vengono confermate Gli occhi rossi E i denti belli appuntiti Quindi mi sa Che questo prototipo Che noi andremo a trovare Su Poppy Playtime Sarà un prototipo Molto molto cattivo E molto pericoloso Dovremmo fare Molta attenzione Ma tra l'altro Guardate qua Questo prototipo Lo vediamo anche Nel greppac Questo qua è il greppac Del prototipo Però A quanto pare Perde la luce rossa Diventa una luce blu Forse perché Questa volta diventa buono Quindi se il prototipo Diventa buono Assume questa luce blu Se diventa cattivo Invece assume la luce rossa Chissà con quale luce La vedremo Quando dovremmo giocarci Sicuramente sarà cattivo Quindi mi aspetta Una bella luce rossa Ma andiamo sempre avanti Proseguiamo Perché qui abbiamo pure Le mani del prototipo Le mani del greppac Quindi Possiamo sbloccare Le mani del greppac Del prototipo Su project playtime Senza dover usare le mod Come abbiamo fatto ad esempio Su poppy playtime Capitolo 2 Ma che bella sta cosa Non vedo l'ora di sbloccare Tutte quante queste cose Ma soprattutto Vedo l'ora di scoprire Tutti quanti questi segreti Insieme a voi Ed eccoci qua Con la news Dell'ultimo minuto A quanto pare È stata rilasciata La data ufficiale Di project playtime Nuova data Che speriamo Che esca realmente Perché non vedo l'ora Di giocarci Project playtime Uscirà il 12 di dicembre Quindi Terretevi pronti Perché in quella data Potremmo cominciare Finalmente insieme Una nuova grande serie E quindi che dire Direi che potete venire Quale il video Fatemi sapere Qui sotto i commenti Cosa ne pensate Spero che questo video Ti vi è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Condividete Iscrivete a canale Con la campanella attiva L'avventura non finisce qua Perché qui davanti Vi compariranno Ben quattro schede Con quattro serie differenti Cliccatene una Buona visione E ci vediamo direttamente Di una di quelle serie Ciao a tutti E buon panino a tutti